Tunisi, 11 febbraio 2011. A Sus, come a Kasserin, come in altri piccoli e grandi centri del paese, si registrano qua e là episodi di violenza, episodi di saccheggio, episodi di vandalismo. Ancora la polizia, la guardia nazionale, l'esercito non sono riusciti a contenere questi piccoli focolai che continuano a dominare la scena e a far parlare di sé. A Bizerte sono gli scioperi a tenere la scena, mentre a Tunisi si fanno manifestazioni ogni giorno. Dopo la battaglia per la libertà è arrivato il momento delle rivendicazioni sindacali. Sono passate poco più di tre settimane dalla partenza in salutato ospite del presidente Ben Ali e di buona parte del clan Traversi facente capo alla famiglia dell'odiatissima moglie Leila. In Tunisia c'è una gran voglia di correre verso dei traguardi sociali che in questo momento appaiono ancora piuttosto lontani. L'economia del paese si fonda e si appoggia su tre colonne fondamentali. La prima è l'agricoltura. Già in epoca romana gran parte del territorio di quello che è oggi la Tunisia veniva considerato come un granaio, il granaio di Roma. Basta spostarsi da Endramme dove a settembre e ottobre si possono raccogliere funghi, porcini e ovuli. A qualche centinaia di chilometri si trovano mandarini e poco più giù i datteri. Un territorio straordinario che si presta ad essere utilizzato per qualsiasi tipo di cultura. L'agricoltura quindi rappresenta un settore estremamente importante e strategico, sia per quanto riguarda l'approvvigionamento per l'interno, sia per quanto riguarda l'esportazione. Abbiamo quantomeno due mesi di anticipo sulla stagione normale in Italia. Accanto all'agricoltura il settore del turismo è un altro elemento strategico importantissimo per l'economia del paese. Ogni anno porta divisa straniera, porta ricchezza, porta risorse. Accanto al turismo, di pari passo, l'industria manifatturiera. Decine di migliaia di piccole imprese, in particolare del settore abbigliamento, confezione, danno lavoro a decine di migliaia di persone. Sia il turismo sia le imprese sono due settori che chiedono soprattutto una cosa, la stabilità del paese. Una stabilità che potrà arrivare solo a seguito di elezioni, elezioni che si spera possano svolgersi in un clima disteso e costruttivo. Ma il problema è che queste elezioni sono annunciate non prima di luglio. Ce la farà l'economia del paese a resistere altri sei mesi in queste condizioni. Esiste seriamente il rischio che si possa aprire una crisi della quale sarà difficile vedere la fine. E allora tutte le rivendicazioni sindacali alle quali assistiamo oggi rischiano di cadere nel vuoto. Quando finalmente saranno garantiti quegli stipendi ritenuti degni, sarà comunque necessario che ci sia qualcuno in grado di poterli dare. A presto!